Turismo, riciclaggio dei rifiuti, grandi ma soprattutto medie e piccole opere. Sotto i 150.000 euro di appalto, i paletti imposti dalle normative si allargano e la mafia lo sa. La crisi economica favorisce l'inserimento anche in Veneto delle attività illegali, discrete, implacabili. Quando un'azienda del Sud Italia sposta la sede legale o apre una filiale in Veneto, DIA e Prefettura si attivano. Molte quelle avvenute nel 2020 nel Padovano. Stiamo ponendo molto attenzione su questo aspetto, sicuramente la Prefettura, il nostro Prefetto, anche probabilmente per i suoi trascorsi professionali, sta ponendo la massima attenzione su questo. Come gruppo Interforza Antimafia stiamo facendo diversi approfondimenti proprio su questo aspetto proprio per prevenire e tagliare sul nascere delle scelte imprenditoriali di aziende grigie che non devono essere consentite. La DIA tiene d'occhio le acquisizioni di patrimoni immobiliari a Padova città e sui colli euganei, a Venezia, Verona e Belluno. Tra le grandi opere, attenzione su Cortina e le Olimpiadi. Altri campanelli d'allarme sono i cambi di amministratori nelle società con l'ingresso di giovanissimi o anziani senza nessuna esperienza professionale. In provincia di Padova non mancano i capannoni dismessi che ora contengono rifiuti. Sotto attenzionata, forse per la difficoltà nell'affrontare il fenomeno, ha concluso Storoni, è la pericolosità della mafia cinese.